Buongiorno, benvenuti a questa resegna stappa di oggi sabato 14 luglio, tanti buoni fini settimana a tutti quanti voi, come dice oggi facci su un pezzo il sole spacca le pietre, non solo a Milano ma pare in gran parte d'Italia. Insomma, dopo queste piccole e banali considerazioni meteorologiche andiamo sul tema di giornata. Mi sono convinto di una cosa, anche se i giornali oggi non titolano così, potrebbero farlo tranquillamente. Il decreto dignità, buongiorno a Max, il primo che ci sta guardando, il decreto dignità di questo governo farà la stessa fine, credetemi, fra due anni, sempre che la propaganda non sia fortissima, farà la stessa fine della legge Fornero. Cioè sarà una di quelle cose che noi ci affretteremo a cancellare. È un disastro. Io dissi anni fa, ciao Rita, buongiorno, che era una cagata. È peggio di una cagata, perché la cagata dà il senso di una roba malfatta. Questo è pericoloso. Beh, insomma, io vi leggo soltanto qualche numero che viene fatto oggi dai giornali, perché l'hanno potuto ovviamente computare nel dettaglio, soprattutto a vedere le relazioni tecniche sulle norme fatte dalla follia, diciamo, di Tridico e dei consiglieri comunisti di Di Maio. Beh, insomma, una di queste è che in Italia ci sono, come voi sapete, due milioni di lavoratori a termine. Beh, uno dice un numero assurdo, il 4%. Bene, il 4% di questi lavoratori a termine, mi sembrano un po' pochi, sì, però il 4% se fossero il 10% dei lavoratori a termine, scusatemi, ci sono due milioni di lavoratori a termine, questo è il numero esatto. Di questi due milioni di lavoratori a termine, l'8%, il 4% di due milioni, 4%, cioè 80 mila persone, hanno contratti a termine che superano i 24 mesi. Due milioni sono i contratti a termine, 80 mila di questi due milioni ci hanno contratti da più di due anni. Ebbene, secondo la redazione tecnica del decreto dignità, il 10% di questi 80 mila, cioè 8 mila persone all'anno, per i prossimi 10 anni, quindi la sintesi è 80 mila, che è lo stesso numero, verranno licenziati perché non si prorogheranno questi contratti a termine. Voi direte, verranno sottolineati con altri? No, è proprio perdita secca, cioè gli imprenditori non prenderanno più nessuno, perché è troppo complicato, perché gli hanno messo le causali, perché gli hanno messo l'aumento dello 0,50, allora prenderanno contratti a tempo indeterminato, pensa il governo? No, semplicemente si perderanno 80 mila posti di lavoro, cioè questo è un decreto che per la prima volta al suo interno, cosa prevede la redazione tecnica? Persi 80 mila posti di lavoro. Ditemi un po' voi, ditemi un po' voi che cosa vuol dire 80 mila posti di lavoro persi attraverso una norma della straminchia che viene fatta perché, dice Di Maio, ma che cosa volete che sono i numeri? L'importante è la dignità. Certo, spiegaglielo a queste 8 mila persone all'anno, 80 mila in 10 anni che perderanno il posto di lavoro. Non tutti potranno fare come Di Maio, i parlamentari del Movimento 5 Stelle. È un dato allucinante perché è un dato comunque sottostimato. Il decreto dignità, solo i 24 ore di oggi, prevede la follia di queste causali, per cui, lo scrivo anche oggi con un imprenditore che me lo spiega molto bene sul giornale, sapete che succede? Che ci sono tre causali che devono essere vistate per poter rinnovare il contratto a tempo determinato. E queste causali sono prove diaboliche, e nessuno riuscirà a spiegare per quale motivo ha bisogno di una persona a tempo determinato invece che indeterminato. Per il semplice motivo che l'imprenditore prende una persona a tempo determinato ancora per 12 mesi, oltre che per una patologia che può esserci in alcuni imprenditori, perché vuole capire bene fino in fondo prima di sposarsi con una persona. Si fidanza per tre anni con un dipendente e poi quando funziona lo assume. Alcuni li assume anche molto prima, oppure segue i picchi di produzione. Ma questo è molto difficile farglielo spiegare a Trivico o Di Maio. Insomma, quello che vi ho detto è nulla rispetto alla questione, seconda grande questione di giornata di oggi, è il CETA. Il 90% degli italiani pensa che il CETA sia una schifezza, cioè l'accordo di libero scambio tra l'Italia e il Canada. La sostanza è che tra l'Italia e il Canada ci sono stati 400 milioni di euro di dazze e tariffe su tutte le importazioni e esportazioni reciproche, ma sostanzialmente su quelle italiane nei confronti del Canada. Quindi fino ad oggi cosa faceva l'Italia? Pezzo di Fubini, chiarissimo, vendeva 5 miliardi di euro di roba italiana in Canada e i canadesi vendevano 2 miliardi in Italia. Qual è il saldo? 3 miliardi a favore dell'Italia. Non è una partita di calcio, non è che vince l'Italia o vince il Canada, perché gli scambi commerciali e il saldo è se mi importo delle cose buone va bene uguale, ma comunque sia, l'Italia esporta in Canada 5 miliardi e importiamo dal Canada 2, che vuol dire che noi esportiamo 3 miliardi più di quanto importiamo. Va bene, questa è la situazione. Su queste importazioni canadesi, cioè il Canada quando ci compra il nostro parmigiano, il nostro prosciutto, le nostre immobili, il nostro design, le nostre magliettine, l'Italia deve pagare dei dazzi, 400 milioni. Bene, col CETA questa roba qui si cancella per la bellezza appunto di 400 milioni di dazzi in meno. Questo trattato che è iniziato a settembre e che è operativo da settembre, che cosa ha portato? Ve lo dico subito. Ha portato, intanto che non ci sono più questi dazzi per tutti i prodotti italiani che sono oggetto dell'accordo, ma ha portato a un aumento, secondo fonti diverse, tra agricoltura e Fubini che parla di ministero e bilancia commerciale, tra l'8 e il 10% di esportazioni agroalimentari in Canada. Cioè abbiamo aumentato le esportazioni nei confronti del Canada, ma è ovvio che li aumentiamo, se non ci sono i dazzi, i nostri prodotti costano di meno e quindi sono più appetibili in Canada. Punto. In più abbiamo fatto sì che le denominazioni di origine controllata, le DOP, le IGP, che sono un'invenzione europea, che non esistono in altro paese del mondo, non esistono in Cina, non esistono in Asia, non esistono in America, giusto o sbagliato è quello che avviene, in America non ci sono le DOP americane, ci sono le DOP asiatiche, per evidenti motivi, noi abbiamo delle cose buone, loro hanno un'altra cultura alimentare. Bene, 41 DOP italiane, origini italiane, vengono riconosciute in Canada. Cosa succede? Che siccome ce ne sono altre 100 che non vengono riconosciute, la Col di Retti ieri si è arrabbiata e di mai hanno detto non si deve fare il CETA. C'è un piccolo particolare, che le 41 riconosciute, le 41 riconosciute, rappresentano il 90% di tutta quanta la produzione agroalimentare italiana e quindi in Canada, ad esempio, come mi ha spiegato l'assessore dell'Emilia Romagna all'agricoltura, l'aglio di voghera, che è favoloso, non è riconosciuto come origine protetta in Canada, ma anche chi se ne frega, è più importante che sia riconosciuto il prosciutto di Parma che esporta in tutto il mondo. Oh no! È evidente che ci saranno dei problemi perché qualcuno potrà in Canada copiare l'aglio di voghera e chiamare il suo prodotto aglioso aglio di voghera, ma invece il prosciutto e parmigiano da ora in poi no, il prosciutto e parmigiano no, va bene? Allora, ma anche se non fossero riconosciute le DOP, prima non c'entravano perché c'erano i dazzi, adesso non ci sono i dazzi, abbiamo aumentato l'esportazione, abbiamo protetto il 90% delle nostre origini e che cazzo fa la Col di Retti con Di Maio che neanche ha letto il CETA, che cosa dice? Abolire il CETA, non ratificarlo. Perfetto, altri posti di lavoro persi. Certo, questo sarà molto più difficile. Ecco, puoi mangiarti tu le cose del CETA, vedi? Giovanni, Giovanna, non ha capito niente. Giovanna, non hai capito niente! Io non mangio le cose del CETA, cretina! Ma come ci fa ad essere così cretini come questa Giovanna? Io me le mangio le cose del CETA? Ma che cazzo dici? Ma cosa hai capito? Ma perché sei una pappagalla? Una pappagalla! Mangiatele tu le cose del CETA! Ma ragiona! Tu ti sei mangiato troppo parmigiano nella tua vita forse, cioè ti sei riempita di rosso nella tua vita se mi scrivi una cosa di questo tipo. Che cosa c'entra il CETA con quello che mangio? Cretina! Non c'entra nulla! Nulla! Perché io posso mangiare merda anche se non aderisco al CETA, chiaro? Ma è una cosa talmente evidente, stiamo vendendo più roba e quella la Novax! Vabbè, basta, mi sono arrabbiato troppo. Pensioni d'oro, altra genialata, altra genialata. Non ha letto Di Maio, sono 1600 pagine, troppa fatica, dice Carlo, è vero, ma non gli hanno letto manco i suoi uomini. Questo mi fa incavolare. E offensivo, sì, sono offensivo, io sono offensivo. Per una che mi dice mangiatele tu le cose del CETA, io sono offensivo. offensivo. Non ho altre parole se non essere offensivo. Pensioni d'oro oggi ricolvi, fantastico, perché racconta il fatto che tutto quanto cambia di nome. E beh, le pensioni d'oro sono le pensioni sopra, prima erano 5000 secondo il contratto di governo, adesso sono sopra 4000. Beh, insomma, dice, mettiamoci d'accordo, oggi c'è una letterina molto carina che è una lettera che ha detto io ho fatto il medico ospedaliero per 40 anni, ho fatto il primario per gli ultimi 7 anni, ho lavorato tutta la vita, ho 4200 euro pensione, ma perché mi dovete togliere la pensione che mi sono pagato con i miei contributi? Beh, io non lo so, io francamente non riesco a capire perché uno ha 80 anni, ha lavorato tutta la vita e pensava di avere quella pensione e gli adesso si debba togliere. Non lo capisco, non lo capisco, è una tassa in più, vogliamo mettere una tassa in più? Facciamolo. O anzi, lo capisco, se tu abolisci il CETA, se tu abolisci, che 28 paesi in Europa e noi siamo quelli che esportiamo più agroalimentari in Canada, abolisci il CETA, abolisci il contratto del tempo determinato di fatto sopra i 24 mesi, è chiaro che abolisci le pensioni di oro, questa è una gigantesca fornero fatta da incompetenti e quindi qua si dimostra una teoria favolosa, la teoria è semplice, gli incompetenti spesso sono delle pippe quasi quanto i professori universitari, adesso non esageriamo, sì Roberto, mi devo un po' contenere, cioè quindi professori universitari e incompetenti li metto un po' sullo stesso piano, i famosi professori che ci devono risolvere, Dibba va a Tiguana e che cosa ci racconta in questo mancabile reportage del fatto, beh insomma ci racconta che a Tiguana tutto il problema nasce dall'immigrazione che vuole andare verso il nord perché sono i poveri contadini messicani che sono stati affamati dall'accordo di libero spaccambio del NAFTA che ha fatto Obama, tutto chiaro. Bello il pezzo invece sul fatto che consiglio a tutti quanti di leggere una questione limpida e chiara come il sole, qua non c'è da fare i giustizialisti, mi dovete spiegare per quale motivo si chiede Fabiani, si chiede Pavesi scusatemi, sul fatto quotidiano, il titolo della Juventus nei cinque giorni precedenti all'acquisto di Ronaldo che è un fatto clamoroso, il titolo ha guadagnato, ha fatto guadagnare in borsa 210 milioni di capitalizzazione, qualcuno sapeva di quell'acquisto, qualcuno ha comprato la Juventus e qualcuno ha fatto insider trading, chiaro? Chiaro, chiaro come il sole, oggi se ve lo leggete nessuno scoprirà mai chi è stato. Bellissimo il pezzo di Nordio su Achille Campanile, l'uomo che scrive meglio in italiano e che forse bisognerebbe rileggere tutti quanti noi un umorista che io adoro oggi sul Messaggero, vabbè sentite guardate oggi sui pescherecci e sulle ulteriori cose non mi va di parlare, sono sempre le solite questioni se non forse il fondo di Sallusti in cui dice attenzione Salvini perché prima o poi ti andrà male qualcuno di questi ve la faccio semplice muore in mare e a quel punto sono guai, nessuno si augura che qualcuno muoia in mare però il rischio c'è, detto questo obiettivamente Salvini sta facendo quello che oggi secondo me un ministro dell'interno deve fare e cioè dire ragazzi non è che qua qualcuno decide di vivere in Italia senza chiederci il permesso cioè l'immigrazione deve essere regolata punto punto non ci potete mettere sempre con le spalle al muro sono arrivati e mo ve li prendete io trovo che questa sia una delle posizioni più condivisibili di questo governo e questo mi rende molto difficile fare questa zuppa perché da una parte vedo le cazzate economiche decreto dignità ceta le pensioni e dall'altra vedo che sull'immigrazione si fa e non vorrei mettere le due cose insieme non sono due demagogie simili una cosa è vera e sostanziale l'altra è demagogia allo stato puro non sono ne sono perfettamente convinto e poi dopo c'è la grande ultima questione che i giornaloni italiani se ne fottono Rocco Casalino va vede un giornalista alla pensioni vitalizi bye bye quella cosa che basta vedere la raggi e capisci quanto è importante vabbè vedi Casalino prende Francesco Merlo che è un giornalista del Foglio e gli dice la battuta di Casalino qual è adesso che il Foglio chiude cosa adesso ora che il tuo giornale chiude cosa fai ecco siccome tutti i giornali stanno chiudendo siccome tutti i giornali stanno perdendo copie quella di Casalino è una battuta di merda possiamo dirla con la parolaccia è una battuta disgustosa perché oltre ad aver fatto perdere posti di lavoro col decreto dignità perderemo tutti noi il posto di lavoro il che non è mai la battuta compiaciuta quando uno soffre non è una bella battuta mai in nessun caso noi che facciamo purtroppo ancora io cerco di fare la zuppa ma noi che facciamo ancora i giornalisti sulla carta stampata sappiamo che stiamo facendo carrozze come alla fine dell'ottocento è no parlo di quel deficiente di Casalino qualcuno dice non penso che parlassi di quello parlo perché io non ne parlo per quello che dice lui ma per la reazione che hanno i giornali cosa avrebbe fatto se fosse stato buon aiuto a dire una cosa di questo tipo il portavoce di Berlusconi o cosa avreste fatto se fosse stato il portavoce di Renzi se avrebbe successo il casino mondiale la dittatura contro invece no se è il Movimento 5 Stelle che insulta con quella merda di Grillo che dice che i giornalisti li vuole mangiare e poi vomitare dico troppe parolacce oggi e mi scuso però il concetto è se lo dicono Grillo e Casalino si passa tutto no non si passa tutto e fa bene oggi Filippo Facci a fare un pezzo durissimo su Casalino durissimo sulle foto di chi che voleva il premier Conte bloccare durissimo perché dice non c'è nessuno scandalo lo scandalo è Casalino che fa il portavoce di Conte questo scrive Facci io non ho nulla contro Casalino se non i diktat che lui mi dà nei confronti giornalisti che devo invitare questo sì questo no nelle trasmissioni televisive non me ne frega nulla di Casalino quello che trovo incredibile è che su una roba di questo tipo non si scherza non c'è nulla di sbagliato però bisogna almeno i giornali dovrebbero avere il senso della loro dignità non il decreto dignità il senso della loro dignità e che quindi se i giornali chiudono come purtroppo stanno chiudendo se i giornali perdono copie come stanno perdendo copie rivendichino con forza il fatto che nessuno li può sfottere nel momento del disastro economico insomma questa è una roba per cui servirebbe quell'inutile ordine dei giornalisti che c'è quell'inutile sindacato dei giornalisti che c'è il problema è che ovviamente si fa a gara ad avere Casalino oggi dalla propria parte come portavoce del ministro del presidente del consiglio domani sarà un altro ieri erano gli uomini di Renzi cambia poco insomma i giorni precedenti quelli di Berlusconi unico giornale leggibile la verità dice Luca Tacchi Casalino il pignone del grande fratello il piacione Vincenzo Bruni il 90% non meritano finanziamenti io sono d'accordo su questo Maria Gribene buongiorno io vi do un grande sim sim templar fantastico Casalino chi? quello che compie un master del PDC del presidente del consiglio insomma ci sono tante battute vostre perché perdono copie Nicola perché perdono copie perché la carta stampata ha perso copie in tutto il mondo perché la gente si informa attraverso questa rete saluto e un abbraccio a tutti quanti voi ciao ah eccolo qua Vincenzo parli male di Veve affondi come Forza Italia se parli male del Movimento 5 Stelle affondi come Forza Italia fantastico fantastico come quella del CETA cretino